Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti e come sempre ben ritrovati nella mia sempre più disordinata biblioteca. Questa sera vi avviso fin da ora che sarò estremamente cattivo e polemico. Perché? Perché parlerò di questo libro, Morte per acqua a capo Matapan. L'autore è il giornalista di Paese Sera Giuliano Capriotti. È un libro del 1965. È un libro che all'epoca fu il primo a recuperare dagli archivi del Ministero della Marina alcuni documenti all'epoca inediti. È un libro prezioso perché raccoglie le testimonianze di diversi superstiti. È un libro prezioso perché raccoglie la testimonianza anche e soprattutto del comandante Maglio Alberto Ginocchio. Il comandante del cacciatorpediniere Carducci. La sola nave che nella notte del 28 marzo 1941 riuscì a reagire, riuscì ad abbozzare un tentativo di reazione di fronte all'attacco della Royal Navy contro la prima divisione incrociatore dell'amiraglio Cattaneo. Alle 22.30 del 28 marzo 1941 cinque navi italiane, lo Zara, il Pola, il Fiume, il Carducci e l'Alfieri, gli ultimi due cacciatorpediniere, furono affondate in tre minuti dalla Royal Navy. Quella notte la flotta italiana perse cinque delle sue più belle navi. Quella notte cinquemila marinai italiani finirono in mare e se ne salvarono pochissimi. Una tragedia causata non tanto, come dice qualcuno, dal tradimento perché ancora a distanza di 75 passa anni da quella tragica notte, ancora c'è chi sostiene che avvenne, che quella catastrofe avvenne perché qualcuno aveva tradito. Qualcuno nella regia marina aveva tradito passando i movimenti della nostra flotta, passando i piani della nostra flotta agli inglesi. Una teoria lanciata negli anni 50 da Antonino Trizzino in Navi e Poltrone è che tuttora, a 60 anni e passa di distanza, trova ancora grande successo presso certe teste. Perché certe persone preferiscono l'idea di un traditore come giustificazione alla sconfitta, piuttosto che ne ammettere il fatto che la sconfitta ci fu, fu grave, fu brutta, fu terribile. Perché? Perché non avevamo idea di cosa fare in guerra. E in questo libro se ne parla. In questo libro si parla già nel 1965, si parla della criminale in preparazione della nostra flotta alla guerra. Si parla del fatto che le nostre navi non erano addestrate al combattimento notturno. Di notte non si combatte. Quindi andiamo a soccorrere con due incrociatori e quattro cacciatori pediniere. L'incrociatore Pola danneggiato e fermo in mare. E le navi come vanno? Vanno con i cannoni brandeggiati per Chiglia e le canne chiuse dalle protezioni. Le canne dei cannoni chiuse dalle protezioni. Perché? Perché secondo la dottrina italiana di notte non si combatteva. Mentre invece gli inglesi, che uno, avevano il radar, due, avevano anche un eccellente addestramento al combattimento notturno e avevano anche e soprattutto le cariche di lancio dei proiettili dell'artiglieria principale e secondaria a vampa ridotta proprio per il combattimento notturno, per non abbagliare gli artiglieri, sapevano come si combatteva di notte. Basti dire una cosa. Nel 1942, durante la battaglia dell'isola di Savo, i giapponesi, senza radar, soltanto con il cosiddetto eyeball mark 1, come lo chiamano gli americani, ovvero sia l'occhio umano, e dei buoni binocoli di fabbricazione svizzera, dicevo, la flotta giapponese stese la flotta americana dandogli una solenne fracca di legnate. E all'isola di Savo gli americani le buscarono e le buscarono di brutto. Loro avevano il radar, i giapponesi no, ma nonostante questo l'eccellente addestramento al combattimento notturno della marina giapponese ebbe la meglio sulla tecnologia americana. Ma in Italia queste cose qui non si sapevano, non si era pensato ad addestrare le navi al combattimento. Di notte non si combatte. Come usiamo la flotta? Non si sa. Una coordinazione con l'aeronautica? Non se ne parla. Una coordinazione con l'alleato tedesco? Ci fu, ma furono i tedeschi, tramite i messaggi di Enigma, poi cifrati da Ultra, a svelare agli inglesi i movimenti della nostra flotta. E poi soprattutto una cosa, la demenziale, e sottolineo demenziale per non dire demente, catena di comando italiana. Mentre gli ammiragli inglesi avevano la massima autonomia in mare, ovvero sia l'ammiraglio inglese che comanda la flotta, parte in mare e quando è in mare la sua autonomia è praticamente totale. Così deve essere in mare. Gli ammiragli italiani cosa dovevano fare? Dovevano chiedere ordini per agire a Supermarina a Roma, al comando di Supermarina a Roma, che a distanza di migliaia di chilometri dalla flotta, mi spiegate cosa cazzo ne poteva capire l'ammiraglio Riccardi, comandante in capo della marina, comandante del capo di stato maggiore della marina, cosa ne poteva sapere Riccardi da Roma della situazione nel mare di Creta. Eppure questo accadde. La flotta italiana fu sempre azzoppata da questa demente idea del controllo da parte del comando centrale della marina, di Supermarina, a Roma. Roma dava ordini alla flotta che navigava in mare e l'ammiraglio che era al comando della flotta non poteva disobbedire, col risultato di fare sempre delle figure di merda, chiamiamole come sono, figure di merda. Se non ci fossero di mezzo dei morti ci sarebbe da ridere, ma tanto, ma tanto ci sarebbe da ridere, perché veramente abbiamo fatto la figura dei cioccolatai. Però, però, occorre anche dire semplicemente questo. A distanza di 60 anni passa dalla pubblicazione di Navi e poltroni di Trezzino, in cui viene ipotizzata la presenza di traditori nei comandi della marina, passando per questo libro, dove l'ipotesi del traditore viene già smontata, fino alla desecretazione di Ulta negli anni 70, quando si scopre che non c'erano spie negli alti comandi della regia marina, o meglio, non c'erano così tante spie, come diceva Trezzino, ma c'erano soltanto i tedeschi che con la macchina cifrante Enigma svelavano agli inglesi che la decifravano con Ultra i movimenti della nostra flotta, delle nostre truppe, dei nostri convogli, e ancora nel 2017 c'è gente che sventola questa, non so neanche come definirla, castroneria immane, questa corazzata cotionchin del complottismo, c'è questa schifezza dei traditori, cioè usano i traditori, usano la scusa del tradimento dei nostri amiragli per nascondere il fatto che scendemmo in guerra senza avere un'idea di come usare la flotta. E la colpa di chi fu? Fu degli amiragli, sicuramente, che non furono dei traditori, furono anche peggio, furono pavidi, incapaci, attaccati alla poltrona, incompetenti, impreparati, criminalmente impreparati, come tutto il paese del resto. Tutto il paese, quando entrò in guerra nel 1940, era criminalmente impreparato alla guerra, senza risorse e senza possibilità di affrontare una guerra moderna. Le buscammo, e ne buscammo anche tante. Lo diceva anche Vittorio Emanuele III di Savoia, meglio noto come lo sciaboletta Bagonghi Kodak. che in guerra si va con due sacchi, uno per darle e uno per prenderle. Capo Matapan, mi dispiace usare questo termine perché ci sono di mezzo dei morti a cui porto un grande rispetto. Capo Matapan fu una legnata terribile che distrusse il prestigio della nostra marina. Quindi, se volete farvi un'idea di cosa accadde la notte del 28 marzo 1941, questo libro vi fornisce la visione d'insieme da parte di uno dei principali testimoni e sopravvissuti, ovvero sia il Capitano Magno Alberto Ginocchio. Per tutte le altre questioni, ovvero sia tradimento o non tradimento, impreparazione, faciloneria, sottovalutazione delle capacità del nemico, troverete degli spunti anche in questo libro. Ma soprattutto vi rimando di nuovo alla lettura dei libri di Giorgio Giorgerini, il nostro principale storico della marina italiana, che nei suoi libri ha spiegato con chiarezza molto meglio di quello che posso fare io con questi miei video, quello che accadde alla regia marina italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, se recuperate questo libro, fatelo vostro e leggetelo con molta attenzione. Se continuate a ritenere che qualcosa a Matapan non andò per il verso giusto, le spiegazioni ci sono. Se continuate a sostenere che Matapan accadde per il tradimento di una spia, beh, signori, mi dispiace dirlo, cambiate mestiere, cambiate hobby, non vi interessate di storia, datevi al giardinaggio, datevi alla pesca sportiva, datevi all'ippica, ma non non interessatevi di storia. La storia non fa per voi se ancora credete alla balla dei traditori. Ok? Quindi, io vi ringrazio per l'attenzione, scusatemi se mi sono accalorato e dilungato, però, sapete bene, io sono fatto così. Prendo fuoco facilmente, mi accaloro e mi incazzo come una bestia. Perché? Perché, alla verità o quantomeno alla dignità cioè delle persone che in quella battaglia morirono ci tengo. E bisogna sapere che questi poveretti, per colpa di chi morirono questi poveretti, non per via di un fantasioso traditore, ma per via degli incompetenti che li mandarono a morire senza praticamente poterli far difendere. Quindi, vi ricordo ancora una cosa. Se avete qualche cosa da dire, sulle mie idee, sulle mie opinioni, sulle mie esposizioni dei fatti, sulla mia recensione di questo libro e sulle mie considerazioni sulla battaglia di Capo Matapan, non dovete far altro che dirmelo, contattarmi, farmi sapere cosa ne pensate, confutare le mie esposizioni dei fatti e ne parleremo semplicemente, tutto qua. prometto che non prenderò fuoco, prometto che non mangerò nessuno, va bene? Quindi, signori, buonasera, grazie ancora e arrivederci alla mia prossima recensione.